In tanti cittadini, fedeli, autorità civili, militari e religiose hanno partecipato nella concattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra alla Santa Messa per rendere omaggio a San Rinaldo, patrono di Nocera Umbra e compatrono della Diocesi. Al termine della celebrazione sono seguiti i saluti del parroco Don Ferdinando Cetorelli che ha ringraziato i presenti e il Vescovo che ci guida verso il futuro. Noi ricordiamo, ha precisato Don Ferdinando, la figura di Giovanni Paolo II che a conclusione del 2000 ci invitava a prendere in largo nell'evangelizzazione, anche nella nostra terra l'auspicio torni lo spirito missionario necessario alla nostra comunità.